Il Val di Sero ha una lunga storia con i Monti Pelati perché già i miei nonni lavoravano sui Monti Pelati, c'erano delle gallerie dove estraevano magnesite e quando io ero ragazzino che andavamo sui Monti Pelati trovavi ancora Badile, Vanghe, c'erano delle rottaie con dei vagoni e la gente del luogo, gli abitanti di Val di Sero, lavorando lì c'erano dei ragazzini che portavano da mangiare a mezzogiorno e era una risorsa per il paese, ora i momenti sono diversi e i Monti Pelati diventano una risorsa turistica anche se la gente del posto li ricorda per le cave che c'erano, adesso molti turisti vengono, molte committive scolari, i pullman di scolari vengono sovente, se spesso, è un altro modo di sfruttare i Monti Pelati.